Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono Gerardo a Finale Ligure e qua abbiamo Jack Dodino, Lollo Folco e Pinci. Oggi ci giriamo sulla legnaia. Cosa sentire qua? Ne faremo un paio di riscaldamento, almeno per me. Lollo partirà già subito a stecca ovviamente. E poi ne faremo altre cronometrate. Ho piazzato una fotocellula, vi faccio vedere dove e vi faccio vedere un po' come giriamo oggi. Francesco, go! Allora la partenza è lì, la prima fotocellula direi che la metto qua. Questa è la una fotocellula e se siete interessati poi farò un video a riguardo. La trovate comunque su Amazon. La accendo e la metto qua. Ci metto una pietra sopra così non si dovrebbe spostare comunque. E mi metto l'altra poi in fondo al pezzo che voglio cronometrare. Ok, partiamo per il primo giro di riscaldamento. Quasi a Passo Duomo a vedere un po' le linee che sono cambiate, se c'è qualcosa di strano. Tra l'altro le pastiglie nuove, quindi bisogna fare un po' di rodaggio. Qui è la solita linea alta prima di questa sinistra. qua. Il rock garden mi ha rincazzato dopo le piogge. Sempre più o meno uguale. Adesso dovrò scegliere anche il posto dove mettere la seconda fotocellula. Ah, minchia qua è sempre rimasta uguale dai. Non ci sono linee diverse dal normale. Lo dico perché ho girato spesso qua. Trovate molti video della lineaio sul mio canale. E niente, qua c'è un doppietto. E la classica pozza. Direi che la fotocellula piazzo qua da queste parti, prima dell'ultima staccata. Sì. 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 Das hateful. Sì. 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 Quattro. Ho rotto la catena. L'ho visto per terra, eh. Oh. L'ho visto per terra, ragazzi. E niente, ecco, mi ero dimenticato di fare le conclusioni Non sono proprio un vero vlogger professionista Però dai Spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo girato un bel po' I primi giri dopo essere andato un po' in moto, un po' in palestra Sono stati un po' diciamo duri, arroginiti E però nel corso dei giri poi ho migliorato E mi sono sentito comunque bene La bici va un gran bene E Lollo va bello forte Abbiamo preso un po' di tempi Poi quel sistema di cronometraggio Se siete interessati ci faccio un video sopra Comunque lo potrete trovare qua sotto nel link ad Amazon E niente, ci vediamo in un prossimo video Ricordatevi di mettere un like Iscrivervi e attivare la campanella Così il canale cresce e siamo tutti più felici Boom! Alla prossima! Ciao! Ciao!